Marte va Lui respira nell'aria cosmica, è un miracolo di elettronica, ma un cuore umano va Ma chi è? Ma chi è? L'argilante si senta a fulmini, entro attento da scudi ternici, sentinella, lui ci va Quando schiaccia un pulsante magico Lui diventa di pergalanze Con lotta per l'umanità Si trasporta in un atomissile Con circuiti di mille marcole Tra le stelle sprinta e va Lui respira nell'aria cosmica E' un miracolo di elettronica Ma un cuore umano ha Macchine 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 Una gillante che sembra un pulmini E' protetto da scudi termici Sentinella lui ci fa Quando schiaccia un pulsante magico Lui diventa di pergalanze Con lotta per l'umanità Si trasporta in un atomissile Con circuiti di mille marcole Tra le stelle sprinta e va Con turma di pergalanze 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 Grazie a tutti